ciao a tutti e benvenuti in questa nuova video pillola tratta ispirata dal besprato academy planner se non sai che cos'è il besprato academy planner beh vai nel link in descrizione perché si tratta dello strumento applicativo del metodo besprato per avere un prato sano forte bello per davvero tutto l'anno il besprato academy planner ci ricorda che siamo entrati nella settimana numero 15 dell'anno siamo a metà aprile ma quest'anno la primavera è decisamente in ritardo e questa parte centrale di aprile in realtà assomiglia alla fine di febbraio di una stagione normale insomma fa freddo e molte delle operazioni di semina e di risemina del prato stanno faticando per via di una lenta germinazione ma il besprato academy planner questa settimana ci ricorda che dobbiamo anche riflettere sulla prevenzione delle malattie fungine perché siamo a metà aprile e tra poco inizierà la stagione più pericolosa per quanto riguarda le malattie nel prato nel metodo besprato la prevenzione delle malattie fungine si fa lavorando su due piani di azione si tratta di strategie completamente naturali che da una parte si basano sull'utilizzo di microrganismi amici che funzionano come dei veri e propri antagonisti e che occupano uno spazio che potenzialmente potrebbe essere attaccato dalle malattie fungine l'altra strategia di azione sempre naturale del metodo besprato fa leva su madre natura stessa ovvero induce le piante in questo caso le graminacee del tappeto erboso ad aumentare le proprie difese interne contro i funghi patogeni questa doppia strategia è veramente molto efficace a patto però di metterla in pratica per tempo si tratta appunto di una strategia preventiva che bisogna fare qualche settimana prima dell'inizio del periodo più pericoloso il periodo più pericoloso per le malattie fungine è maggio giugno luglio e agosto quindi ragazzi mettiamoci all'opera e nel besprato academy planner viene proprio proposto un approfondimento lo stesso approfondimento lo troverai all'interno del link in descrizione dove è spiegata molto bene la strategia di prevenzione delle malattie fungine e dove vengono presentati i prodotti da utilizzare con tanto di dosaggi insomma non hai scuse è veramente il momento di iniziare la strategia di prevenzione sono trattamenti semplici da fare che ti impiegano anche per poco tempo e terminiamo come al solito con i consigli di micio micione la mascotte di besprato questa settimana micio micione ci suggerisce dopo aver concimato il prato fai una leggera irrigazione